I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato un castelvetranese di 29 anni per il reato di maltrattamento in famiglia nei confronti della madre. I carabinieri hanno documentato in poco tempo diversi episodi di violenza che l'uomo avrebbe messo in atto nei confronti della madre che esausta ha deciso di rivolgersi al comandante della stazione per chiedere aiuto. In ultimo, il 29enne, si sarebbe reso responsabile a seguito del rifiuto della donna di dare dei soldi e le chiavi della macchina, di averla strattonata facendola rovinare per terra e di aver messo a soccuadro l'intera abitazione distruggendo diversi soprammobili. L'uomo è stato pertanto deferito all'autorità giudiziaria. Nel territorio di Marsala, invece, i carabinieri della stazione di San Filippo in esecuzione di un ordine di applicazione di misura cautelare hanno sottoposto a divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da persona offesa un marsalese di 41 anni a seguito di certosine attività di indagine dopo reiterati episodi di minacce e molestie da parte dell'indagato nei confronti dell'ex compagna.